Buongiorno, benvenuti al TG2000, l'edizione delle ore 12, vediamo subito quelli che sono i titoli. In Spagna prosegue il braccio di ferro fra il governo di Madrid e la Catalogna, nella notte ancora tensioni a Barcellona. Muore la ragazza di Ischitella, cui l'ex compagno della madre ha sparato in pieno giorno per strada. Sentirsi peccatori è la prima condizione per ricevere lo sguardo di misericordia di Gesù, sono le parole del Papa questa mattina nell'Omelia a Santa Marta. Notte di tensione dunque a Barcellona, dove proseguono le proteste contro gli arresti dei funzionari catalani per evitare il referendum sull'indipendenza della Catalogna dal governo di Madrid. 40.000 persone hanno cinto d'assedio per ore gli agenti della Guardia Civil Spagnola, che perquisivano gli uffici del governo locale alla ricerca di prove contro gli organizzatori del referendum, che lo ricordiamo è stato vietato dalla Corte Costituzionale Spagnola. Ma per tutti gli aggiornamenti, il servizio di Pierluigi Vito. È stato un assedio, pacifico ma deciso, quello durato per ore all'ingresso del Dipartimento dell'Economia della Generalitat della Catalogna. Fuori una folla di migliaia di cittadini di Barcellona radunatisi spontaneamente. Dentro, gli agenti della Guardia Civil, che dopo gli arresti in mattinata di 14 funzionari del governo locale, sul mandato della magistratura, perquisivano gli uffici alla ricerca di prove sull'illegalità del referendum indipendentista convocato per domenica 1 ottobre. Siamo qui perché ci venga permesso di votare, dice Pau. La Spagna, diversamente da Regno Unito e Canada, che hanno lasciato votare chi voleva separarsi, non ci concede quello che si fa in tutti i paesi del mondo. La Catalogna non è l'eccezione. L'eccezione è lo Stato spagnolo, che non ci permette di votare. La folla parla apertamente di un colpo di Stato e invoca l'aiuto dell'Unione Europea. E alla comunità internazionale, sia rivolto in inglese e in francese, il governatore della Catalogna, Carles Pigemont, definendo un'aggressione senza basi legali l'intervento della Guardia Civil, che viola le garanzie costituzionali dell'UE. Non accetteremo di tornare a tempi bui, ma resisteremo in nome della libertà e della democrazia. Disegno opposto alle parole del premier Rajoy, che da Madrid ricorda le pronunce dei giudici contro la legittimità del referendum e invita a porre fine a questa escalation di radicalismo e disobbedienza per il bene della popolazione catalana. La strada verso il 1 ottobre si annuncia carica di altre tensioni e bisogna capire se davvero riuscirà a svolgersi questa consultazione, anche considerando il sequestro da parte delle forze dell'ordine di 10 milioni di schede elettorali. Altra situazione fonte di tensione a livello internazionale è quella dell'accordo sul nucleare iraniano, di cui si è parlato all'Assemblea Generale dell'ONU. Non ho deciso, ha preannunciato Trump a margine del bilaterale con il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen, senza però rivelare le sue intenzioni. In serata il segretario di Stato americano, Tillerson, dopo un incontro con il ministro degli esseri iraniano, ha tenuto le carte coperte. Il presidente, ha spiegato al segretario di Stato, ha preso la sua decisione. Non potesse certificare o meno il rispetto dell'accordo sul nucleare alla prossima scadenza del 15 ottobre, ma non l'ha condivisa con nessuno esternamente, neppure con Teresa May, che gliel'aveva chiesto ieri. Non ce l'ha fatta la ragazza di 15 anni, colpita ieri da una pallotola sparata dall'ex compagno della madre, un 37enne che l'ha aspettata per strada in un vicolo di Ischitella nel Foggiano. E' morta questa mattina in rianimazione ed è di nuovo polemica sui segnali di pericolo non colti dalle istituzioni. Federico Plotti. Purtroppo non ce l'ha fatta Nicolina Pacini, la ragazza ferita al volto da un colpo di pistola sparato dall'ex compagno della madre. E' morta questa mattina poco dopo le 7 in ospedale a Foggia per un ennesimo arresto cardiaco. Ieri mattina, intorno alle 7.30, la 15enne stava scendendo questa scalinata per raggiungere la fermata dell'autobus che da Ischitella, dove viveva insieme ai nonni, a cui era stata affidata insieme al fratello, l'avrebbe portata a scuola a Vico del Gargano. Proprio qui è stata raggiunta da Antonio Di Paola, l'ex compagno della madre. Hanno cominciato a discutere, raccontano alcuni testimoni, poi lui ha estratto una pistola e le ha sparate in pieno volto. Probabilmente ha chiesto alla ragazza dove fosse la madre, che momentaneamente non vive più a Ischitella, ma in Toscana per motivi di lavoro. E quando lei si è rifiutata di fornirgli tutti i dettagli, l'uomo ha estratto la pistola e le ha sparate a bruciapelo, senza pensarci due volte. Antonio Di Paola, 37enne, violente e con precedenti penali, non si è mai dato pace. Dal giorno in cui è stato lasciato dalla madre di Nicolina, Donatella Ragno, 37 anni anche lei, ha tentato in tutti i modi di ritornarci insieme, anche usando minacce, per questo era stato denunciato almeno due volte. La stessa madre aveva espresso in più di un'occasione preoccupazione per i figli, che vivevano a pochi metri dall'uomo, ma nessuno l'ha mai ascoltata. Probabilmente quel gesto folle, la decisione di sparare alla figlia, è stata una vendetta contro la madre, ma questo forse non lo sapremo mai. L'uomo, dopo una breve fuga tra i campi, si è suicidato con la stessa pistola, una calibro 22, usata per sparare alla ragazza. Non voglio odio, non odiate perché l'odio porta soltanto violenza. E' l'appello che la mamma di Noemi Durini ha rivolto ai giovani, parlando dall'altare a conclusione della cerimonia funebre per la figlia sedicenne, uccisa dal suo fidanzato. Mia figlia è morta, ma ha vinto lo stesso perché lei non provava odio, ha aggiunto la donna. La messa è stata celebrata dal vescovo della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca, Monsignor Vito Angiuli, il quale ha lanciato un appello. Ciò che è accaduto a vostra figlia e alla vostra famiglia potrebbe accadere ad altre ragazze e ad altre famiglie. Sono almeno 225 i morti per il terremoto di magnitudo 7.1 della scala Richter che ha colpito il Messico, devastando la capitale e le regioni circostanti. Si teme però che il bilancio finale possa ancora crescere. La terra nel frattempo continua a tremare e diventano simboliche le immagini dei salvataggi fra le macerie della scuola collassata, seppellendo decine di bambini. Clara Iatosti. Il Messico è in ginocchio, ma non c'è tempo per piangere. C'è la piccola Frida da salvare. Anche lei era in classe quando il mostro, un terremoto di magnitudo 7.1, ha colpito il suo paese. Almeno 21 bambini e 5 adulti sono stati estratti morti dalla scuola Rebsamen, ma tanti sono dispersi. I genitori di Frida aspettano, i soccorritori sarebbero molto vicini alla bimba e forse ce ne sarebbero altri ancora vivi da salvare. Civili, militari e volontari lavorano senza sosta, chiedendo a tratti silenzio, con un gesto ormai diventato un simbolo. Si attende di poter esplodere in un applauso liberatorio, così come applausi sono stati riservati alle squadre inviate per Darmanforte dal Giappone, paese dove i terremoti sono una tragica realtà, unito al Messico dal cinturon de fuego del Pacifico, quel semicerchio ad alta densità t-sismica che unisce l'America con l'Asia. Il presidente Pegna Nieto, al minimo dei consensi, rivendica l'azione del suo governo, parla di risolutezza e solidarietà, parla dei 50 sopravvissuti strappati alle macerie di edifici crullati. Solo a città del Messico 39 quelli venuti giù completamente, ma più di 1900 persone hanno ricevuto cure mediche e si distribuiscono pasti ed acqua. Nelle ultime ore, anche con il maltempo, non si è fermata la ricerca dei dispersi, a volte complicata dall'instabilità dei detriti. Sostegno alle vittime, censimento dei danni e ricostruzione, queste le prossime fasi delle istituzioni in risposta al sisma. Non prima, però, di aver tentato il tutto per tutto per salvare vite umane. Torniamo in Italia. Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato l'ordinanza che disciplina i primi interventi urgenti conseguenti all'alluvione che ha interessato il territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Colle Salvetti, nella notte tra il 9 e il 10 di settembre. L'ordinanza entrerà in vigore nei prossimi giorni, appena verrà pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale, e il provvedimento nomina commissario delegato, il presidente della regione toscana, Enrico Rossi. Adesso la politica al centro dell'agenda, una nuova legge elettorale invocata da più parti e che inizia l'iter di valutazione e discussione in aula. E forse questa è l'ultima chiamata per un sistema di elezione identico per Camera e Senato. Augusto Cantelmi. Ricomincia la partita sulla legge elettorale. Il PD presenta in Commissione Affari Costituzionali della Camera un nuovo testo chiamato Rosatellum bis, dal nome del capogruppo Dema alla Camera Rossato, nella speranza di trovare un'intesa tra le forze politiche. Si tratta di un sistema che prevede 231 collegi uninominali maggioritari, il 35%, tra cui quelli del Trentino Alto Adige, gli altri il restante, 65% con il proporzionale. Sono in corso trattative per coinvolgere soprattutto Forza Italia, mentre dal Movimento 5 Stelle arriva un deciso no, favorevole invece la Lega. Si tratta comunque dell'ultima chiamata per approvare una nuova legge elettorale prima del ritorno alle urne e soddisfare la richiesta del Quirinale per un'armonizzazione dei testi di Camera e Senato, che al momento restano diversi. Nell'area dell'euro, durante la ripresa, l'immigrazione ha dato un ampio contributo positivo alla popolazione in età lavorativa, riflettendo soprattutto l'afflusso di lavoratori dai nuovi stati membri dell'Unione Europea. Lo scrive la BCE nel bollettino economico che mette in luce anche l'importante apporto del lavoro femminile. Per quanto riguarda le proiezioni per l'area dell'euro, gli esperti della BCE nel settembre del 2017 prevedono una crescita del PIL in termini reali fra il 2,2% e l'1,7% nel triennio fino al 2019. Per l'Italia il punto debole rimane, il tasso di disoccupazione in calo, ma non in maniera significativa. Solo 15 paesi del mondo, tra cui l'Italia, hanno politiche nazionali di base che aiutano i genitori a supportare la crescita dei propri figli. Lo scrive l'Unice, fino a un rapporto diffuso oggi. Marco Bergamaschi. Solo 15 paesi nel mondo, tra i quali l'Italia, hanno tre politiche nazionali di base che aiutano a garantire ai genitori tempo e risorse di cui hanno bisogno per supportare un sano sviluppo del cervello dei propri bambini. E' uno dei dati principali del nuovo rapporto Unicef sullo sviluppo della prima infanzia. 32 paesi in cui vive un bambino su 8 di tutti i bambini del mondo, con meno di 5 anni, non hanno nessuna di queste politiche. Sorprendentemente il 40% di loro vive in due soli paesi, Bangladesh e Stati Uniti, e circa 75 milioni di bambini vivono in aree colpite da conflitto, aumentando il rischio di stress tossico che potrebbe inibire le connessioni delle cellule celebrali durante la prima infanzia. A livello globale, spiega poi l'Unicef, scarsa nutrizione, ambienti non salutari e malattie hanno contribuito all'arresto della crescita di 155 milioni di bambini, privandoli della possibilità di svilupparsi e raggiungere il pieno potenziale. Per il rapporto, due anni di istruzione per scolare gratuiti, congedo per l'allattamento pagato per i primi sei mesi di vita, sei mesi di maternità e un mese di paternità attribuiti, contribuiscono a gettare le basi per uno sviluppo ottimale della prima infanzia, politiche che aiutano i genitori a proteggere meglio i figli, a garantire loro una migliore nutrizione, esperienze di gioco e apprendimento nel primo anno di vita. Tra i paesi con tutte e tre le politiche, con l'Italia, Cuba, Francia, Portogallo, Russia e Svezia, in media i governi spendono meno del 2% per l'istruzione in programmi per la prima infanzia, ma investire oggi nei primi anni di vita, spiega l'Unicef, favorisce nel futuro significativi traguardi a livello economico. Per questo il rapporto chiede a governi e privati di supportare politiche nazionali di base per lo sviluppo della prima infanzia, dando priorità ai bambini più vulnerabili. Lo scandalo dell'abuso sessuale è veramente una rovina terribile per tutta l'umanità che colpisce tanti bambini, giovani e adulti vulnerabili in tutti i paesi e in tutte le società. Per la Chiesa è stata un'esperienza molto dolorosa, sentiamo vergogna per gli abusi commessi da ministri consacrati che dovrebbero essere i più degni di fiducia. Il Papa ha espresso profondo dolore alla Commissione Tutela Minori accolta in udienza poco fa. L'abuso sessuale è un peccato orribile, completamente opposto e in contraddizione con quanto Cristo e la Chiesa ci insegnano. L'altra notizia che arriva dal Vaticano è quella dell'incontro la fine settimana scorso fra Francesco e i genitori di Yara Gambirasio, la ragazza a tredicenne di Brembate di sopra in provincia di Bergamo, morta il 26 novembre del 2010, una visita strettamente privata di cui non è trappelato quasi nulla. Ne parla oggi l'eco di Bergamo che dà conto di un clima familiare in cui il Papa ha colto la coppia nel suo appartamento a casa Santa Marta. Solo Gesù ci salva. e sono le parole del Papa questa mattina durante l'Omelia a casa Santa Marta. Saper riconoscere i propri peccati, sentirsi peccatori è la prima condizione per ricevere lo sguardo di misericordia di Gesù. E questa è una delle riflessioni del Papa che ha invitato i cristiani a non rimanere chiusi nella gabbia dei sacrifici e dei precetti in quanto appunto solo Gesù ci salva ma accorre saper riconoscere i propri peccati. Secondo Francesco è questo il punto di partenza per una conversione individuale e comunitaria. A chi si scandalizza per la misericordia, cristiani compresi, il Papa dice, sono peccatori. E' tutto, il nostro giornale termina qui, l'informazione torna come sempre alle 18.30. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona giornata.